Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a dare alcune trucche, alcune strategie per quanto riguarda questa campagna di calcistica Vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un like e tutte le campagne per essere aggiornati sui miei contenuti Iniziamo subito ad andare a elencare soprattutto alcune carte che possono essere quelle carte che vi daranno quel profitto in questa giornata di campionato Iniziamo con la prima carta, la prima carta è Ternandez che come vedete abbiamo una delle tre tipologie di carte, quella blu, quella rossa e quella gold Come vedete quella blu è da acquistare anche se ha un guadagno basso rispetto alle altre due ma è un inizio per approcciare bene in questo gioco Quindi Ternandez secondo me è il primo giocatore da elencare, da scegliere e anche da comprare in questo gioco Oltre a Ternandez vi consiglio di acquistare anche Aove Mayang che se andiamo a vedere su diretta.it il Barcellona Andrà a giocare contro il Siviglia, vediamo dove è la Liga Spagnola La Liga Spagnola sta Il Barcellona gioca di domenica contro il Siviglia alle ore 21 Quindi gioca alle 21 e Barcellona Aove Mayang come vedete la carta gold è 35 quindi è da rischiare, da comprare assolutamente Oltre a Ternandez e a Bemayang abbiamo anche Chessy, che Chessy se andiamo a vedere nella sezione della serie A Chessy ha un valore di mercato buono e come vedete la carta blu, la carta rossa e la carta gold è assolutamente da acquistare Potete anche acquistare tutte e tre carte se avete un budget buono e potete, avete la possibilità di acquistarle Quindi i primi tre giocatori da acquistare sono questi qua Oltre a questi qua vi consiglio anche di acquistare Raspadori Che Raspadori come valore di mercato non è male E ha pure la carta d'oro e è ben 45 coins quindi vi consiglio di acquistare anche questo giocatore Per quanto riguarda queste giornate di campionato che se andate a vedere il Sassuolo gioca contro Lazio È una partita davvero difficile ma Raspadori in quella partita Vedendo la doppietta fatta soprattutto nella partita in nazionale contro la Turchia Penso che Raspadori possa fare qualche cosa in più in questa partita Bene ragazzi spero che vi sia stato d'aiuto Soprattutto sia queste strategie che questi trucchi su come acquistare alcune carte di basso valore E far profitto e aumentare il vostro budget Vi mando un grosso abbraccio al vostro arpegamer Bella ragazzi